Consegnati questa mattina nello spazio comunale di Piazza Forcella i primi 20 strumenti musicali ai ragazzi dei laboratori Annalisa Durante. Chitarre, violini, clarinetti, bassi acustici e tavolette ritmiche sono stati regalati dagli imprenditori Vincenzo Varriale e Nicola Cavallo, organizzatori della fiera gastronomica Baccalare. Abbiamo pensato di creare, di far nascere la baby song contro le baby gang perché la musica è cultura, è arte, è crescita e siamo veramente contenti di aver comprato tanti strumenti, circa una trentina, violini, chitarre, clarinetti, percussioni, tutti gli strumenti per far sì che questa baby orchestra nascesse. Ci auguriamo, ci aspettiamo sia io che il mio socio Nicola, di vederli esibire la prossima edizione che si farà a maggio prossimo sul palco e quindi vedere anche il risultato concreto di quello che poi è stato il nostro gesto sentito, veramente sentito e sicuramente ne faremo degli altri. Promossi dal comune di Napoli con l'associazione Annalisa Durante, i ragazzi di Scampia Aurora musicale, la scuola Adelaide Ristori e il club Zonta di Napoli, i laboratori assicurano la formazione musicale a 60 ragazzi fra i 7 e i 16 anni guidati da 9 esperti. Song a Napoli significa sono, quindi baby song sono bambino, ma song è anche suono, canzone, musica, quindi sono bambini che suonano. In questo caso i bambini che cosa suonano? Suonano il loro diritto, il loro diritto ad avere una vita degna, occasioni, opportunità, incontro con la cultura, con l'arte. Qui ci sono veramente con civica espansione del cuore, tantissimi che danno una mano, associazioni, gli insegnanti che insegnano in questi laboratori musicali lavorano tutti gratis e adesso si sono aggiunti anche degli sponsor, baby song, cioè un'orchestra giovanile a forcella come è accaduto anche in altri luoghi problematici e difficili della città, quindi spero che questo modello si moltiplichi e che tanti altri ci diano una mano ad arrivare lì dove le istituzioni, spesso da sole non riescono ad arrivare e invece insieme, oltre che indignarci, protestare, sollecitare, a volte anche con gesti semplici e possibili si può migliorare la situazione realmente.